Buongiorno, questa è la rassegna stampa in breve di video 33, oggi mercoledì 6 gennaio, festa dell'epifania caratterizzata dalla variabilità su tutto il territorio provinciale, sole e nubi si alterneranno appunto. Andiamo a vedere le aperture dei quotidiani locali che troviamo in edicola, iniziamo con l'Alto Adige, il commissario più telecamere penta, occorre dare più sicurezza ai cittadini di Bolzano, poi nel taglio alto saldi senza code ma gli affari volano e cresce la fiducia soprattutto dei negozianti e nella fotonotizia la Befana viene con la scopa in 2000 a Don Bosco, un successone per la sfilata in costume, oggi si replica a Bressanone e poi negli interni i ferrovieri. Dateci più agenti polfer sui treni, l'allarme lanciato dai sindacati. Andiamo al quotidiano Corriere dell'Alto Adige, del Rio Tunnel, fondi garantiti, il ministro tratte di accesso pressing sull'Unione Europea, concessione A22, la firma il 14 gennaio, impegno per il treno dolomitico, al Fraider finanziamo la ferrovia con le risorse Autobrenner. Poi nella fotonotizia l'incidente 10 minuti appeso alle gambe dell'istruttore, l'incidente dell'altro ieri in Valbadia, bimbo caduto dalla seggiovia interviene ora la procura e poi negli interni frasi antisemite contro un poliziotto il sindacato. Questo è un episodio gravissimo, chiudiamo con lo sport, i Foxis Corsari battono l'Innsbruck, tre reti preziose. Bene, con questo ho terminato, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.